Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo flash, vado a fare una stesa molto rapida andiamo a vedere perché questa persona vi tiene fuori dalla sua vita, cioè qual è il motivo per la quale non vi fa entrare nel suo mondo qui allora io non vado a mettere nessun tipo di vincolo, cercate di cucire voi in base alla vostra situazione perché naturalmente io vado proprio a tirare fuori le carte e a leggerle in maniera rapida quindi non vado a fare preamboli, capire com'è la situazione attuale, chi siete voi eccetera quindi cercate di capire se risuona con voi, se c'è qualcosa che dovete sapere allora ovviamente è destinato questo video a delle persone appunto che sono distanti alle persone che si sentono un po' messe da una parte, a persone impegnate che sanno che la persona che desiderano ha una relazione ufficiale eccetera questo tipo di situazioni vado subito a vedere quindi perché questa persona non vi fa entrare nella sua vita allora innanzitutto qua abbiamo una persona che senz'altro sta facendo qualcosa di losco quindi o voi appunto siete l'altra donna in ogni caso questa persona potrebbe appunto scappare è una persona che va, prende quello che vuole e se ne va potrebbe essere di carattere così ma non è detto, potrebbe essere appunto una persona che sta facendo una cosa di nascosto e quindi in quanto tale sa che non è diciamo corretto quello che sta facendo e evita però è comunque una persona che qualcosa è venuto a prendere, sentimenti, sesso adesso ovviamente dovete cucire voi scappa perché sa che non è corretto quello che sta facendo se è impegnato sa che è una cosa che sta facendo di nascosto e che non dovrebbe fare quindi per quello sostanzialmente vi tiene fuori dalla sua vita vediamo ancora perché questa persona vi tiene fuori dalla sua vita allora questa persona qui lo fa a malincuore sappiate che soffre per l'allontanamento ha dei rimpianti, probabilmente è costretto ad assumere questo atteggiamento è una persona che comunque si sente sola rimpiange o l'allontanamento proprio il fatto di avervi allontanato, il fatto di evitare di incontrarvi ma potrebbe anche rimpiangere di aver fatto qualche mossa che non doveva fare o delle scelte se per esempio qua aveva un rapporto ufficiale questa persona magari rimpiange delle scelte che ha fatto o rimpiange o il tradimento attenzione perché non è detto che cioè io non so chi guarda il video se siete delle donne ufficiali e avete lasciato questa persona e non riuscite più in qualche modo volete vedere anche come sta vi tiene fuori dalla sua vita appunto perché non sapete più nulla questa persona soffre vediamo un po' ancora perché questa persona vi tiene fuori dalla sua vita qua per alcuni di voi potrebbe riguardare il lavoro il motivo per la quale vi tiene fuori quindi qua potrebbero esserci situazioni tipo mi sono innamorata della mia collega di lavoro del mio datore di lavoro della mia allieva magari un istruttore una persona che comunque sta lavorando e non può perché non è consentito anche il dottore che si innamora del paziente per esempio ok qui c'è comunque un allontanamento sofferto per molti di voi per altri se sapete che questa persona è senz'altro impegnata al 120% che non ci sono altri blocchi tipo il lavoro in questo caso è una persona che subisce l'allontanamento lo soffre ma soffre esclusivamente perché non può più fare i fatti propri perché il mercante è una persona che tratta tratta per avere quello che vuole non gliene frega niente di nessuno dei sentimenti degli altri di quello che pensano le altre persone è una persona che vuole una cosa e la ottiene con tutti i mezzi possibili leciti o illegiti andiamo a vedere perché non mi fa entrare nella sua vita ops è caduta la carta scusate allora per molti di voi qui appunto ripeto c'è una relazione ufficiale o siete voi impegnate perché qua esce la donna maritata quindi è una persona che comunque ha un rapporto sentimentale importante magari avete anche dei figli quindi è una persona che per molti di voi viene a farsi i fatti propri non vuole farvi entrare perché il suo guadagno sta nella famiglia e lui non la vuole perdere questa famiglia vuole proteggere i figli vuole proteggere la donna ufficiale anche perché probabilmente questa persona questa donna ufficiale è anche estremamente gelosa di questa persona quindi qui il motivo per la quale non vi fa entrare è questo per molti di voi ha paura di perdere la moglie andiamo a vedere altri motivi per la quale questa persona non vi fa entrare nella sua vita questa persona ha dei come posso dire degli ideali molto saldi risulta di nuovo impegnata avendo degli ideali molto saldi questa persona non lascia i propri obblighi magari fa le scappatelle vi evita al momento oppure viene da voi per un desiderio prettamente sessuale o anche per stare in compagnia ma comunque è una persona che non riesce a lasciare andare le proprie le proprie responsabilità quindi se si è preso un impegno con una donna ufficiale con una compagna questa persona difficilmente dice ok la mollo per avere un'altra relazione no perché questa persona si è presa l'impegno ed è una persona che porta a termine le proprie le proprie i propri impegni quello che si è prefissato di fare potrebbe anche qui avere a che fare con un avvocato se la donna si è resa conto che questa persona ha un rapporto extra potrebbe evitarvi perché c'è di mezzo un avvocato perché forse questa persona questa donna si è ingelosita si è infastidita e vorrebbe cioè l'ha minacciato probabilmente o ha messo in mezzo la giustizia in qualche modo forse non è ancora come posso dire attivo un divorzio però è una persona che forse l'ha minacciato o gli ha detto una frase come se la pianti bene se no stai attento perché io vado sotto avvocati e poi facciamo i conti in altra maniera andiamo a vedere un altro motivo per la quale questa persona vi è escluso della sua vita non vi fa entrare qui comunque è una persona che vi pensa in ogni caso e soffre e soffre molto questa persona sente vi deve tenere in là c'è proprio il muro di distacco deve tenervi distante però vi osserva vi guarda questa persona e soffre perché non può avvicinarsi questa persona sta male distante da voi però fate attenzione appunto perché qui ci sono più due varianti sia la persona comunque che effettivamente sta male nello storio distante ma anche la persona che se ne sta approfittando mi viene più diciamo un 80% 85% delle persone che effettivamente sta persona soffre distante da voi e che è un po' legato dalla moglie perché appunto potrebbe esserci anche un avvocato qualcuno o lei l'ha minacciato insomma rispetto a una situazione ufficiale di divorzio e però questa persona potrebbe perdere moltissimo perché qua si è trasformato in un mercante il che vuol dire che lui tutto sommato ha dei vantaggi nel rapporto ufficiale o perché ha una casa o delle proprietà o anche il lavoro stesso quindi voi poi cucite in base alla situazione sappiate che comunque questa persona se voi sapete che non è un pezzo di ok è una persona che comunque soffre e vi pensa molto va bene io vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto vi do un abbraccio commentatemi ditemi com'è la vostra storia se combaccia con le carte se avete dei dettagli da aggiungere o se vi risulta vi risuona con voi o risuona con l'altra persona quindi datemi un po' riscontro io vi do un abbraccio e vi aspetto con i prossimi interattivi vi ringrazio